Buongiorno a tutti, oggi Nati Liberi presenta un video sull'olfattazione, l'olfatto è il senso più sviluppato nei cani, quindi andiamo al video e vediamo cosa succede, buona visione! Come possiamo osservare i nostri cani stanno trovando i bocconcini, solo esclusivamente con l'utilizzo del naso, quindi stiamo lavorando sull'olfattazione, l'olfatto è il senso più sviluppato per il cane e inoltre ricordiamo anche che i cani utilizzano un senso per volta, quindi in questo caso stiamo lavorando sull'olfatto, sul naso e attraverso l'utilizzo di esso vengono rintracciati dove sono stati gettati i nostri bocconcini, questa cosa la potete fare con il vostro amico a quattro zampe in qualsiasi posto dove è solito andare o semplicemente anche in casa o in giardino, lanciate in maniera disordinata i bocconcini come abbiamo fatto noi come avete visto nel video e lasciate che il vostro cane attraverso l'utilizzo del naso possa rintracciarli, buona giornata! . Grazie a tutti